Buonasera e bentrovati con l'edizione domenicale di KaroTG. Come di consueto andiamo a scoprire le principali notizie della giornata consultando il nostro sito newsrimini.it. Partiamo dalla situazione meteo con piogge intense nel riminese allagamenti a Riccione. Infatti piogge intense sul riminese fin dalla notte, primi allagamenti ma alla fine i danni sono stati pochi e contenuti mentre a Rimini non sono state segnalate situazioni critiche. La stessa cosa invece non si può dire per Riccione dove il sottopasso di via La Spezia questa mattina è stato transennato perché completamente allagato. Gli uomini della protezione civile in azione con le idrovore lo hanno liberato dall'acqua nel giro di un paio di ore. Un principio di allagamento in abitazione si è verificato invece poco distante in via Porto Venere. Anche qui idrovore in azione. A Cattolica alcuni scantinati sono stati invasi dall'acqua e poi liberati. In Balcon che è stato monitorato con attenzione il fiume Tavollo ma al momento non si segnalano particolari criticità. In zone dell'entroterra come Villa Verucchio, Vergiano, Mulazzano e San Savino gli accumuli di pioggia hanno superato localmente i 90 mm. Sulla SP84 zona via Pedrosa nel comune di Montefiore Conca è in corso invece uno smottamento subito allertata alla provincia di Rimini che interverrà sul posto con una squadra di tecnici. Per domani la protezione civile ha rinnovato precauzionalmente l'allerta meteo gialla per frane e piene dei fiumi. Per lunedì 8 gennaio si legge non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia a seguito delle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti nel settore centro orientale saranno possibili localizzati fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili e piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Per le residue condizioni conclude la nota dello stato del mare non si escludono localizzate erosioni e o ingressioni marine. Ora invece andiamo un attimo a vedere le previsioni che ci attendono nella giornata di domani. Sulla costa cielo nuvoloso sia al mattino che al pomeriggio ma anche la sera temperature comprese tra 7 e 8 gradi. Sui rilievi invece le minime scenderanno a 2, le massime invece toccheranno i 6 gradi. Torniamo ora sul nostro sito newsrimmini.it e continuiamo a leggere le principali notizie di giornata. Ora la cronaca. Auto data alle fiamme nella mattinata spavento per una famiglia. È di natura dolosa l'incendio che nelle prime ore del mattino ha danneggiato gravemente a Cattolica due auto, una Volvo XC70 e una Ford Fiesta, oltre ad un furgone daily vehicle intestata ad una ditta. I mezzi appartenenti tutti alla stessa famiglia erano parcheggiati tra via Mincio e via Arno. Cinque uomini e due mezzi dei vigili del fuoco sono accorsi intorno alle 7 un quarto quando in strada stavano bruciando i tre mezzi. L'intervento si è concluso circa due ore dopo. Non risultano danni alle abitazioni circostanti. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della tenenza di Cattolica a cui sono state affidate le indagini. L'autore o gli autori si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Trovata a terra però una bottiglia con del liquido infiammabile. Nella zona in cui è stato appiccato il fuoco ci sono delle telecamere di videosorveglianza i cui filmati sono al vaglio degli investigazioni. dell'arma che vogliono capire se si sia trattato di un gesto intimidatorio o di un atto vandalico. Sotto sequestro i tre veicoli incendiati su cui verranno svolti accertamenti di natura tecnica. Ora torniamo sempre nella home del nostro sito News Rimini e continuiamo con la cronaca. chiama i carabinieri minacciando il suicidio ricerche al porto canale di Rimini ma è un falso allarme. Intorno a mezzogiorno ha chiamato la stazione dei carabinieri di Rimini Porto e utilizzando un nome di fantasia ha annunciato di volerla fare finita. Mi voglio ammazzare mi butto nel porto ha detto. Poi la telefonata si è bruscamente interrotta. Lungo il porto canale di Rimini allora si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri mentre in mare è uscita una moto vedetta della capitanere di Porto coadiuvata da un equipaggio dei vigili del fuoco. Le ricerche sia via terra che via mare però non hanno dato alcun esito. È possibile che la donna una 32 anni italiana con disturbi della personalità che alloggerebbe in una casa famiglia fuori regione abbia solo minacciato di compiere l'estremo gesto. Stando alle ultime informazioni raccolte la donna risulta in salvo. Attualmente si trova vicino a Roma e non sarebbe mai stata Rimini nella giornata odierna. Si è trattato quindi di un falso allarme. Ora i carabinieri valuteranno se denunciarla per procurato allarme dal momento che il personale della capitaneria, quello dell'arma e dei vigili del fuoco, è stato impegnato per ore nelle ricerche. Facciamo ora invece un passo indietro alla giornata di ieri perché circa una quarantina i temerari che il giorno dell'Epifania hanno sfidato il maltempo per concedersi il tradizionale tuffo della Befana nelle acque antistanti a Piazzale Roma. Tra questi anche il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni che non ha voluto mancare all'appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Adriatica, l'associazione volontari di protezione civile Misano 2030 e le cooperative e i consorsi degli operatori della spiaggia. Dopo il bagno in mare ecco il meritato ristoro per tutti a base di panettone, dolci e bevande calde. E sempre ieri grandi apprezzamenti per il corteo itinerante dei Re Magi svoltosi a Rimini e riproposto integralmente su Icaro TV ieri sera e oggi alle 12.30. Nonostante o il meteo non proprio favorevole, l'evento ha riscosso un grande successo. Hanno sfilato per le vie del centro 400 figuranti vestiti a tema, 4 cori, 3 solisti, 25 musicisti e 8 cavalli. Hanno preso parte alla sfilata in costume con tanto di musica, balli e canti tradizionali, uomini e donne di 10 nazionalità differenti. Il corteo è partito dall'invaso del ponte di Tiberio con l'arrivo dei Re Magi sull'acqua a bordo di tre scialuppe. Qui è avvenuto l'incontro con Re Re Ode mentre i Re Magi osservavano la stella cometa. Il corteo ha poi continuato a piedi attraverso il centro storico fermandosi in piazza Cavour sulla piazza ribattezzata di Betlemme per poi ripercorrere via 4 novembre dove i Re Magi hanno presentato i loro doni per giungere infine al Tempio Malatestiano per adorare il Re dei Re. È stata una festa dei popoli, ha detto il sindaco di Rimini Sadegolvad, una giornata per tutti, credenti e non credenti, uniti sotto la stessa stella. L'evento prodotto da Medo Officina Creativa e che verrà riproposto sui caro tv alle 19.35 al termine della prima edizione del Tg Serale ha visto la partecipazione del Comune, della Diocesi di Rimini e dell'Associazione Ponte dei Miracoli. Ora invece passiamo allo sport partendo dal calcio. Il Rimini inizia il 2024 purtroppo come aveva chiuso il 2023 con una sconfitta. Il città di Arezzo si conferma a stadio avaro di soddisfazioni per i biancorossi. Il servizio. La prima partita dell'anno nuovo il Rimini regioca lo stadio comunale città di Arezzo dove i Romagnoli hanno vinto una sola volta nel 1997 contro una squadra che inclassifica gli stessi punti dei biancorossi 23. In casa riminese indisponibili lo scolificato semerario gli infortunati Tofanari, Marchesi, Rosini, Capanni e Cursi. Al quarto Gaddini al limite dell'area controlla di destro e calcia di sinistro. Il pallone si bilalato con Colombi comunque sulla traiettoria. All'undicesimo Pietrangeli rilancia verso la Mesta. Chiosa colpisce di testa. Morra si coordina ma il suo destro non crea grattacapi a Trombini. Al dicesettesimo Pattarello tiene in campo il pallone. Poi lo soffia Lepri ed esterno sinistro serve Gaddini che va al tiro dal limite. Super risposta di Colombi che vuole devia in angolo. Al ventesimo spunto sinistra di Gaddini che punta Stange e va al tiro di sinistro. Diagonale a fondo campo. Al ventiduesimo Morra scambia con Iacoponi e calcia da fuori area. Pallone a lato. Al trentunesimo ci prova da fuori anche Guccione. Colombi respinge. Al trentatresimo si rinnova il duello tra Gaddini e Colombi che devia in angolo il lob del numero 11 di casa. Al sesto della ripresa il destro di Montini dal limite dell'area sfila lato di poco. Al sedicesimo Iacoponi si invola a sinistra e cerca Morra chiuso in angolo da Chiosa. Al ventisettesimo dopo un calcio di punizione battuto male da Stange l'Arezzo trova il vantaggio. Guccione pennelli in area. Assist di testa di Gucci per l'incornata intuffa da due passi di Pattarello che festeggia il gol sfilandosi da maglia e con un inchino al pubblico. Al trentatresimo è la sinistro da fuori area di Lamesta e uno zuccherino per l'estremo Amaranto. Al trentasettesimo Cernigo in Becca Ubaldi che calcia sul primo palo. Trombini si salva in angolo. Al quarantunesimo Montini per il neo entrato Iori che accarezza il pallone con il destro e va al tiro sempre di destro. La sfera sfiora il montante. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce una zero per l'Arezzo che sa la quota 26. Per il Rimini il terzo cappò consecutivo. I biancorossi restano a 23 e domenica prossima per la prima al neri del 2024 arriverà la Torres. Unica squadra in grado finora di contendere il primato al Cesena. Sentiamo ora il commento a caldo dell'allenatore del Rimini Emanuele Troise. Sì, è un risultato negativo che fa male per come è arrivato perché anche oggi nel dettaglio, in quella che è l'essenza di questa categoria, siamo andati al di sotto del nostro rendimento e di quello che dobbiamo mettere in campo. Comunque tutto sommato la partita in termini di contenuti è stata abbastanza equilibrata dove abbiamo rischiato qualcosina al fronte insomma di una squadra che ti mette in difficoltà per il reparto offensivo. Siamo riusciti anche noi insomma spesso ad arrivare nell'ultimo quarto la differenza in quella che è stata poi la cattivera, in quella che è stata anche quel pizzico di qualità ha determinato un risultato che ci fa tornare a casa con una sconfitta e dove ci proietta in un girone di ritorno molto complicato. Ci sono poche parole perché noi dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo capire che bisogna cambiare qualcosina, qualcosina in termini di quella che è la settimana dove vedo una squadra disponibile, una squadra molto attenta, dove invece nel primo tempo la lucidità di cui parlavo ieri è fragile, è fragile, il giro di ritorno sarà così e quindi noi dobbiamo in questo senso capire che diventa fondamentale. Oggi nella partita dice 1-0 per l'Arezzo ma in termini di contenuti due squadre abbastanza equilibrate dove la differenza poi l'ha fatta quel pizzico di qualità negli ultimi 25 metri con quella giocata di Cuccione su un errore nostro con palla a metà campo che potevamo gestire in modo diverso. Mi dispiace perché comunque Stanga secondo me a rientro stava disputando un'ottima gara contro avversari ripeto che mettono in difficoltà chiunque. Diamo ora uno sguardo alla classifica. Cesena in testa con 49 punti tallonato dalla Torres a quota 47. Torres ricordiamo prossimo avversario al Neri del Rimini. Rimini che invece in una terra di mezzo perché con i suoi 23 punti si trova a tre lunghezze dall'ultimo posto disponibile per i playoff quello attualmente occupato dall'Arezzo a 26 ma deve anche guardarsi le spalle perché la zona play out dista solo tre lunghezze infatti la vispesero è a quota 20 quindi campionato davvero incerto e da seguire fino alla fine. È tutto io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma Icaro Play dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro compreso il TG. Grazie per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di una buona serata. Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie per aver guardato il nostro canale!